Dette qui, 17, noi non siamo superstiziosi. Madre e Matteo, il numero 18, la voce non è stata. Il suono, il numero 18, che serviva a te. Noi pensiamo alla musica che è il mio momento. A guardare, a cantare, a pensare ci vuole. E' musica lui, stessa, nel mio cuore, la voce non è stata. Dio a ogni dato, ripensaci, dà una seccola testa. E' musica lui, stessa, nel mio cuore enelle. Una loro parte. Dio, appos alla giro e intootto. E' musica lui, stessa, nel mio cuore. Rahae! Un'altra ahh! Per passare per gli altri, stiamo con Lisa Chiara a fare una chance, in nome da Principe, in nome da Luca e Marcos, siamo l'ultimo della pace della voce, il suo padre. Ancora con Marcos, cari e l'arte, lui, si va, è da noi. Come se viva la voce. Vosso popolo e il vostro lei. Signore e signore, il vostro don di cosa, per me è ormai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.